Un successo tale da obbligare quasi gli organizzatori a prorogarla fino a fine aprile è la mostra Luciano De Crescenzo fotografo l'esposizione ironica divertente che racconta quella Napoli fuori dagli schemi e lontana dallo stereotipo da cartolina. Una selezione degli scatti più originali tratti dal volume La Napoli di Bella Vista, opera cardine dello scrittore e regista partenopeo che è tanto piaciuto al pubblico incantato e divertito dal sapido umorismo ma anche realismo. Un occhio a quello di decrescenza o capace di cogliere scorci inediti della città ma soprattutto momenti di vita quotidiana a metà strada tra folclore e puro verismo. Ad ospitarla nel ventre di Napoli il Nilo Museum Shop di Piazzetta Nilo, una location che rende ancora più magica la surreale atmosfera. Un ritratto indovinato attraverso le immagini della capacità propria di Napoli di non perdersi d'animo e di quel modo divertito di leggere le difficoltà che fa di coloro che vivono in questa città degli riducibili e talvolta incoscienti ottimisti.